Sequestrate 24 strutture per un valore di oltre 2 milioni di euro contenenti alimenti potenzialmente nocivi per la salute o mal conservati. È risultato dell'operazione dei carabinieri dei NAS in diversi stabilimenti balneari di tutta Italia, denominato bagnasciuga. Il blitz ha riguardato oltre 500 stabilimenti nelle ultime due settimane. I militari hanno riscontrato irregolarità nel 20% delle strutture controllate, accertando 150 violazioni. 100 le persone denunciate, mentre ammonta 100.000 euro il valore complessivo delle sanzioni amministrative combinate. Sono 207 i controlli al sud, 155 quelli al centro e 140 al nord. 30 ettolitri di liquidi e 6.000 confezioni di prodotti alimentari tra pesci, gelati, carne, verdure e bevante sono risultati di ignota provenienza o in cattive condizioni di conservazione. Le ispezioni proseguiranno per tutta l'estate.